Il gol è stato il sassolino che ci avevo da sei mesi dentro una scarpa ma è riferito a una persona che mi ha chiamato l'ultimo giorno di mercato per dirmi che devo andare subito via da Lecce e neanche davanti la faccia e quindi magari qualcuno ha anche la coda di paia visto che si è arrabbiato ma per me è tutto regolare Mi sono trovato subito bene qui perché ovviamente a Lecce giocavamo in un modo diverso che secondo me penalizzava non giocavamo con le due punte qui sono venuto qui giocavamo con le due punte mi sono trovato subito bene con i compagni mi hanno aiutato il mister poi mi fa sentire importante e poi penso che si veda in campo come riesco a gestirmi meglio perché comunque un cacciatore e la terza secondo me fa tutto e la terza che c'è a Lecce purtroppo era un po' sbandata e ora per fortuna la sto riportando nei binari giusti